Oh, questo è proprio forte, poi l'ho invitata a casa e oggi mi viene a trovare. Oh, è lei, ti richiamo, ciao. Ciao. Che sorpresa. Disturbo? No, è che sei matta, ero qua con Mario. Allora, vedi, quello lì è Mario Bros, che deve liberare una principessa che è nascosta dentro un castello. Per arrivare a questa principessa deve superare un sacco di ostacoli e deve fare un sacco di salti, no? Pronto, 130.000 punti. Oh, come hai detto che ti chiami? La Nintendomania di Laga. Fatevi prendere!